Siamo alla sede dell'AMAM e proprio qui davanti si sta svolgendo la protesta che vede impegnati tutti gli ex letturisti. La parola al portavoce. Buongiorno a tutti, noi siamo qui ovviamente in un presidio permanente, pacifico ovviamente, noi non vogliamo contrapporci a nessuno, vogliamo semplicemente rappresentare i nostri diritti che sono quelli di ex letturisti ormai licenziati da un anno e che ovviamente per tanti anni, ci sono colleghi in mezzo a noi che da 15 anni fanno questo lavoro da sempre, costantemente, e che quindi forniscono all'AMAM da sempre tutti i dati relativi alle letture. Questi dati relativi alle letture scaturiscono ovviamente in fatturazione, in introidi, quindi pur essendo assunti esternamente per conto di ditte terze, noi, anche se precariamente l'abbiamo sempre fatto, perché a volte per la necessità ognuno si presta a quello che è possibile fare, però sono passati tanti anni, la nostra condizione di precarietà non è stata, come dire, superata, siamo sempre precari, tra di noi ci sono persone che hanno anche una certa età, abbiamo delle famiglie, abbiamo le nostre incombenze giornaliere, quindi noi vogliamo mettere in rilievo il fatto che noi ancora rimaniamo precari, si parla ancora di appalti, di fare appalti, sapendo già in partenza che comunque un sistema degli appalti ovviamente fa lievitare i prezzi, questa è una cosa risaputa, mentre dati alla mano e numeri alla mano che noi abbiamo fornito alle varie amministrazioni, il nostro impiego stabile secondo il ruolo per cui noi lavoriamo potrebbe fornire sempre la nostra prestazione di lavoro professionale con criteri di dignità di lavoro, quindi lavoro stabile piuttosto che qualcosa che continui nel precariato. Perché indossate le catene? Ma indossiamo le catene perché noi abbiamo intenzione questa volta di essere seri, non siamo più disposti a promesse, come dire, facili da fare, quando le persone ovviamente sono stabilizzate, hanno dei lavori, non siamo più disposti ad aspettare ancora, vogliamo andare anche oltre, quindi magari tra qualche giorno cominciare un digiuno totale, possiamo soltanto dire basta a quello che è un sistema di precariato, che non ci sta più bene. A che ora avete iniziato la protesta e fino a quando continuerete? Lei mi parlava di alcuni giorni più in là, dice inizieremo lo sciopero della fame, ma oggi in giornata rimarrete qua fino a quando? Sì, rimarremo fin tanto che sarà possibile, ovviamente quando ci chiuderanno le porte, la nostra protesta continuerà oltre, ad oltranza, continueremo domani e via dicendo, fino a che sul tavolo non arriveranno delle proposte certe e sicure, che siamo stanchi di parole, siamo stanchi di promesse elettorali.